La vicenda che ho gli interventi messi in campo e quelli programmati dalla regione toscana In aula l'assessora all'ambiente Monia Monni risponde all'interrogazione presentata dal consigliere Francesco Gazzetti Le bonifiche non sono interventi né facili né veloci da fare, dice Monia Monni La regione ha provato da subito a chiamare in causa i soggetti responsabili delle contaminazioni perché sono loro che devono pagare e non i cittadini Una relazione dettagliata che illustra chiaramente il quadro della situazione si dice soddisfatto della risposta il consigliere Gazzetti Sono stati forniti dati, è stata fornita anche una raffigurazione delle operazioni in corso e sono anche stati evidenziati degli elementi molto importanti La volontà della regione toscana di costituirsi parte civile L'appello tra l'altro, ecco questo secondo me le forze di opposizione sicuramente non faranno mancare il loro appoggio per il completamento dell'iter per l'individuazione della struttura commissariale Sul resto anche a seguito di una serie di approfondimenti che sono stati anche depositati dall'assessore Monni così come annunciato in aula in consiglio regionale penso che tutti abbiano finalmente la possibilità anche di uscire dall'interpretazione di temi che a volte sentiamo o leggiamo e ci si possa, e questo è lo spirito con il quale anche ho deciso di presentare questa interrogazione si possa entrare nel merito e si possa affrontare la questione CEU con anche la possibilità di condividere un approccio e schierandosi ovviamente al fianco di chi come dal nostro punto di vista fa la giunta regionale e sta agendo in maniera molto concreta e opportuna per un raggiungimento di un obiettivo che è quello della sicurezza e la salute ovviamente delle Toscane e dei Toscani Nell'annunciare che la regione toscana si costituirà parte civile l'assessora Monni ha però ricordato come la regione stessa si è in attesa da oltre un anno del decreto del governo per la nomina della struttura commissariale esterna su questo punto Gazzetti chiede un'azione bipartisan a tutto il consiglio Quello di spingere tutti insieme dato che la maggioranza a livello nazionale adesso vede una connotazione di un certo tipo che è esattamente speculare alle forze presenti nell'aula del consiglio regionale adesso quelle forze hanno l'opportunità anche di offrire tutto il loro appoggio e tutta la loro spinta affinché questo atto se lo ritengono importante ma mi pare che sia stato evidenziato anche nel dibattito lo sia si possa arrivare a un risultato concreto nell'interesse generale credo lo spirito dell'interrogazione era anche questo che si potesse davvero segnare un ulteriore passaggio rispetto a questa vicenda condividendo gli obiettivi Un dibattito insufficiente però secondo Lega e Fratelli d'Italia Ancora si dice partiranno i piani di caratterizzazione che sono quei piani che permettono e portano poi alle bonifiche partiremo in alcune aree con le bonifiche il piano è aggiornato aiuteremo i comuni però la situazione fondamentalmente non è variata rispetto a un anno fa siamo ancora allo stesso punto l'unica innovazione è che la regione ha deciso di mettere a disposizione 10 milioni per le bonifiche questi 10 milioni ancora non sappiamo come verranno utilizzati i tre sono i siti che coinvolgono la regione gli altri siti sono in capo agli enti locali che non hanno la strumentazione non hanno le capacità tecniche all'interno dei comuni pensiamo che sono stati coinvolti comuni piccolissimi con personale a disposizione veramente limitato che non hanno le competenze per preparare un piano di caratterizzazione poi riversare i soldi anche che servono per il piano di caratterizzazione e le bonifiche verso gli attori coinvolti il procedimento della magistratura è ancora in corso le indagini preliminari sono chiuse però ancora non abbiamo notizie in merito quindi fondamentalmente tante parole però pochi fatti non siamo soddisfatti dei tempi perché in realtà la Toscana e i Toscani attendono già da molti mesi l'avvio delle bonifiche promesse che invece anche per lungaggini burocratiche legate ai procedimenti e all'interpretazione delle norme ancora non sono partite inoltre ci siamo presi in carico perché eravamo stati i primi insieme al nostro capogruppo Torselli a porre la questione del commissario straordinario per le bonifiche nazionale perché il decreto 152 lo consentirebbe ci siamo resi disponibili a sollecitare il governo a procedere alla nomina perché quando lo proponemmo noi addirittura a giugno del 2021 la giunta regionale ci disse di no oggi invece hanno cambiato idea ancora una volta seguono fratelli d'Italia con un po' di ritardo e vedremo e speriamo che ci sia questa nomina perché è giusto e opportuno che ci sia differenziazione fra coloro che hanno ruoli di governo e di gestione dell'ordinario all'interno della regione toscana e coloro che invece si devono occupare di una questione molto delicata, complessa e immediata come le bonifiche il Movimento 5 Stelle che si dice preoccupato per la possibile presenza di altri siti contaminati in Toscana vede approvata con 26 voti favorevoli nessun astenuto e contrario la mozione presentata che chiede alla giunta di riferire sull'effettiva costituzione di parte civile illustrando come intende rivalersi i suoi responsabili per i costi di bonifica La preoccupazione riguardo il fatto che questi sversamenti di materiali contenenti Keu abbiano raggiunto molte più parti della Toscana è un dubbio, un timore fondato su dei numeri che sono emersi grazie anche a un accesso agli atti che abbiamo fatto e da dei rilevamenti che sono stati fatti anche da Arpat e riguardano le centinaia di migliaia di tonnellate di conferimenti di questi fanghi che sono stati fatti all'epoca nel corso degli anni si parla dal 2014 in poi che all'improvviso si sono dimezzati sono andati quasi ad esaurirsi nel 2016 con un procedimento con dei passaggi che sono ancora oggi al vaglio delle autorità significa che ci potrebbero essere tonnellate e tonnellate ovunque in Toscana serve un'indagine documentale prima e in loco successiva fatta da Arpat perché secondo noi il rischio che la Toscana sia un focolaio denso di questi luoghi di inquinamento è alto si parla di viabilità in apertura del Consiglio regionale il tema è quello della superstrada Firenze-Pisa-Livorno una società di gestione ad hoc e poi pedaggio selettivo questo è il futuro prospettato dal Presidente Gianni nel rispondere a un'interrogazione delle opposizioni abbiamo intenzione dopo lo studio fatto da KPMG di provvedere alla realizzazione di una società ad hoc una società in house della regione Toscana Strada S.p.A. che si proponga non l'intervento di rincorsa alla manutenzione stradale nella FIPI-Li ma possa certo a tratti con scansioni diverse ma provvedere a allargarla e a potenziarla allargarla attraverso la terza corsia dove è possibile e altrimenti realizzando corsie d'emergenza che oggi non ci sono la stima delle risorse necessarie per i lavori dice ancora Gianni è quella di 15-20 milioni all'anno come ottenerli attraverso un pedaggio che sia però selettivo ovvero non a tutti i veicoli ma ai TIR che possono essere controllati con il sistema satellitare con cinque grandi strutture che siano archi metallici e che possano controllare, verificare e essere rete di un controllo satellitare in cui sistemi ha la società autostrade è ancora comunque un progetto in fase di valutazione dice ancora il presidente della giunta regionale ci vorranno mesi per poterlo attuare quindi non ci deve essere diciamo così allarme o prese posizione perché tutto questo verrà in più sedute del consiglio regionale però l'obiettivo è questo per dare alla FIPILI in prospettiva il volto di una strada di grande circolazione che abbia le caratteristiche dell'autostrada moderna ad interrogare il presidente era stato il portavoce dell'opposizione Marco Olandi restano forti dubbi sul pedaggio dice dopo la discussione in aula se si pensa di sistemare una situazione come quella della superstrada Firenze-Pisa-Livorno diciamo lasciata in uno stato di abbandono di manutenzione sempre straordinaria in questi ultimi 40 anni facendo pagare il pedaggio selettivo ai trasportatori, ai mezzi oltre le tre tonnellate e mezzo a noi non convince anche perché poi quel pedaggio sicuramente non andrebbe a coprire si stima un introito di circa 15 milioni e questo chiaramente non sarebbe un importo sufficiente per poi garantire la sistemazione effettiva di questa strada noi abbiamo avanzato un'altra ipotesi quella di un pedaggio iperselettivo di valutare attentamente innanzitutto a chi si riferisce perché si tratta di un'ipotesi di pedaggio selettivo cioè per i trasporti oltre le tre tonnellate e mezzo noi abbiamo fatto anche valere il fatto che si potesse pensare a un'ipotesi anche ultra selettiva cioè soltanto per quei mezzi che vengono da fuori regione non per i mezzi immatricolati in Toscana quindi già questo è un'ipotesi che il Presidente ha preso in considerazione è una strada nata male all'origine attacca il Movimento 5 Stelle in questi anni è mancata la manutenzione e adesso le idee proposte da Gianni non tengono conto della realtà per tutte le aziende per tutto il sistema manifatturiero e commerciale il tessuto economico della Toscana che nel corso degli ultimi 30 anni è cresciuto intorno a questa arteria significa non capirne le conseguenze economiche in un momento tra l'altro una circostanza di aumento generalizzato dei prezzi che non ha precedenti significa scaricare sull'utente finale i costi di quel pedaggio perché questo saranno il significato e se non saranno scaricati sull'utente finale saranno scaricati sulle aziende e comunque sia ci sarà un sistema di rilevamento del pedaggio che ancora non abbiamo capito come sarà che dovrà essere previsto, valutato perché quanto ha detto su sistemi satellitari o altre idee surreali e futuristiche non sta in piedi significa quasi non aver mai preso quella arteria e non rendersi conto di cosa sia quella viabilità rispedisco poi veramente al mittente tutte le illazioni le ipotesi che sono state fatte per mettere l'un contro l'altro gli utenti camionisti, autisti di bisarca con automobilisti e persone che fanno passaggi comuni diciamo che si spostano per lavoro non è così che si deve comportare un amministratore che deve risolvere dei problemi serve un intervento del governo ma non da adesso Dubbi sul pedaggio li avanza anche il gruppo di Italia Viva Quello che serve non è mettere un balsello di natura economica contro le imprese o contro i tir con tanti autotrasportatori che tutti i giorni devono percorrere quell'arteria per lavoro serve fare un grande investimento la società in house può essere un'idea ma noi siamo convinti che il finanziamento debba essere richiesto su livello nazionale in gran parte d'Italia è ANAS che fa questo intervento con risorse di bilancio nazionale il governo non può esimersi dalla responsabilità politica in Toscana di mettere risorse di fare questo investimento la società in house può essere un buon volano di investimento ma a nostro avviso gli interventi possono essere puntuali diretti e quindi la competenza passare di livello regionale ma nel contempo ottenere risorse non tanto dalle aziende che lavorano quanto ovviamente dal governo Eramo una trentina di persone si hanno preso si hanno messo al muro 5 sorelle e la mamma che aveva in braccio la piccolina di 20 giorni la mia mamma e un'altra mamma sono state ammazzate con la pistola noi siamo con la medagliatrice si è aperta una porta dietro di noi e si ha portato in questo fondo e così ci siamo salvati uno di quei ricordi che bisognerebbe tutti sentire perché è stato non solo un pezzo di storia ma anche vedere come una comunità si sia rialzata abbia cercato in tutti i modi di trasmettere anche il dolore e la sofferenza perché questo è un luogo di dolore e sofferenza ma che oggi ci dà una speranza Adelio Pardini superstile della strage di Sant'Anna di Stazzema racconta con le stesse emozioni di sempre quei tragici momenti dell'eccidio in Alta Versiglia ad ascoltarla agli ragazzi del Parlamento regionale degli studenti accompagnati a Sant'Anna dalla Presidente del Consiglio regionale abbiamo la necessità di continuare ad investire ad investire ancora di più dopo che le ultime voci che potevano raccontare la barbaria di quel tempo penso a Enrico Pieri penso a Cesira Pardini a cui va il nostro grazie più sincero per aver coltivato la memoria e a noi il compito di essere insieme alle ragazze e ragazzi della nostra scuola amplificatori di memoria e questo è un luogo che segna la disumanità di quel tempo segna le barbarie subite da tante donne e da tanti uomini è un luogo che però segna anche la riscossa civile del nostro paese perché qui la resistenza è proprio il simbolo di un'Italia che voleva farcela da un anno quasi ormai la guerra in Ucraina ci ha riportato in questa situazione così drammatica e quindi fare memoria e soprattutto studiare e conoscere la storia della seconda guerra mondiale del suo impatto sui territori della Toscana è fondamentale per acquisire sempre di più una conoscenza e una consapevolezza del valore della pace e del rispetto reciproco e della solidarietà tra i popoli memoria attiva l'impegno che si rinnova da parte degli studenti dopo la visita come un forte richiamo alla conoscenza storica alla conoscenza di questi fatti tragici che portarono via la vita a tantissimi ragazzi non solo della nostra età ma anche a tanti bambini eppure una piccola bambina di 20 giorni che è la più piccola vittima di questa strage che quindi noi oggi ci impegneremo a ricordare per comunque dare voce a tutti gli studenti della Toscana che sono vicini a quanto è successo soprattutto per ascoltare le ultime voci dei sopravvissuti tra cui Adele Pardini che abbiamo la fortuna di avere qui oggi con noi proprio per un momento di ricordo di quanto è accaduto Grazie a tutti Grazie a tutti